1987. Palermo. Aula Bunker. Si conclude il primo maxiprocesso alla mafia. 1942. Himmler ordina la deportazione di tutti gli zingari che vivono in Germania. 1989. Timi Shoara. Manifestazione che dà l'avvio alla rivoluzione rumena. Commenta il Fatto del Giorno Roberto Papetti, direttore del Gazzettino. Oggi parlerò dell'ultimo discorso di Benito Massolini. 16 dicembre 1941. Nasce l'attore Vittorio Mezzogiorno. Interprete teatrale, televisivo e cinematografico, vince nel 1978 e nel 1981 la Coppa Volpi con Il Giocattolo e con Tre Fratelli. Protagonista di numerose serie televisive, Mezzogiorno per il grande pubblico è l'ispettore di polizia Davide Licata, che sostituisce il commissario Cattani nella piazza. 16.